Ben trovati, oggi vi ho portato alla Range Rover Village sul grande raccordo anulare per raccontarvi questo gioiello, la Range Rover Evoque, uno stile assolutamente unico, senza compromessi, grintoso, praticamente il futuro che è già realtà. Con il suo design sportivo e grintoso, Range Rover ridefinisce elementi tradizionali tipici della Range Rover, come questo cofano a conchiglia, il tetto panoramico ed un look da coupé veramente pronta a tutto. La vettura presenta un fianco inclinato che disegna linee grintose, una muscolatura che si innesta per tutta la lunghezza del veicolo ed un assottigliamento unico e distintivo per la parte posteriore del tetto. L'inequivocabile personalità Range Rover si presenta con la sua linea orizzontale generata dalle due barre traforate e dagli inconfondibili gruppi ottici anteriori. L'avanzata tecnologia di illuminazione della Range Rover Evoque, oltre a fornire alcuni elementi tra i più suggestivi del suo design, assicura prestazioni straordinarie. Gli innovativi sistemi di illuminazione con tecnologia LED conferiscono un aspetto inconfondibile ai fari anteriori e creano un complesso design tridimensionale a fiore nei gruppi ottici posteriori. Il design esterno dal forte impatto visivo trasmette subito l'idea di lusso attraverso l'impiego preciso e accattivante di queste finiture in metallo. Come tutte le vetture Land Rover, anche la Range Rover Evoque ottimizza le caratteristiche di guida in ogni condizione. Ciò è possibile grazie all'impiego di tecnologie innovative come il Terrain Response che adatta l'assetto di motore, cambio e sistemi elettronici alle condizioni del terreno, massimizzando la guidabilità, il comfort e la trazione. La guida notturna è ottimizzata grazie ai fari adattivi opzionali all'oxeno. Che cosa fanno questi fari? Che funzione hanno? Come ci aiutano? È molto semplice. Hanno una funzione che fornisce un'illuminazione supplementare nelle curve strette e possono essere specificati anche con i fari automatici, con abbaglianti assistiti che rilevano l'avvicinamento di luci provenienti da altri veicoli, passando automaticamente, se necessario, dagli abbaglianti agli anabbaglianti. Le versioni disponibili prevedono un recente turbodiesel da 2002, disponibile in due versioni TD4, 150 CV e SD4, 190 CV. La versione a benzina è un 2000, denominato SI4. La posizione di guida sportiva e dominante della Range Rover Evoque offre una nuova interpretazione del controllo, caratteristica integrante di ogni Land Rover. Il conducente è avvolto dagli interni con dati e informazioni importanti, chiaramente visibili, e i comandi comodamente a portata di mano. Il risultato è una guida più sportiva che mai, pur mantenendo la leggendaria vista della strada e del paesaggio circostante. Allora, prima di salutarvi questa signorina Range Rover Evoque, top di gamma, full optional, viene 67.150 euro IPT compreso. Con me ci rivediamo e saremo sempre English, perché vi parlerò della Jaguar XFR. Alla prossima! Allora, prima di salutarvi questa signorina Range Rover Evoque, top di gamma, che vi parlerò della Range Rover Evoque, Allora, prima di salutarvi questa signorina Range Rover Evoque, top di gamma, che vi Sadhguru s'occur EUgasst laemaכ